È stato prorogato al 15 novembre il bando del Comune di Somma Lombardo per l'acquisto di libri e di materiale didattico informatico. Il contributo del valore massimo di 200 euro è rivolto alle famiglie che a causa dell'emergenza Covid hanno perso il lavoro o visto diminuire il proprio reddito. Possono presentare la domanda i residenti con i figli iscritti alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e i centri di formazione professionale che abbiano sostenuto spese per l'acquisto dei libri di testo o di altro materiale scolastico. Che cosa si può fare? Si possono acquistare libri di testo ma si possono acquistare anche dei supporti informatici come un tablet per poter assistere alle lezioni didattiche a distanza. Quindi l'invito è di informarvi cercando sulle pagine del sito internet e del portale della città di Somma Lombardo perché i termini della scadenza sono stati prorogati al 15 di novembre.